riflessioni di cristina saracano aspetto aspetto guardò il telefono nessuna notifica silenzio la confusione del sabato pomeriggio prima di natale gente che va di corsa distratta alla ricerca di doni per sostenere la propria immagine la propria gratificazione la propria coscienza aspetto il sole piccolo aspetto la primavera ma poi non ci sono più le mezze stagioni e allora farà subito caldo e io aspetterò l'inverno aspetto è una vita che ti aspetto non mi scrivi non mi rispondi non mi vuoi ma io sono sicura di cercarti eppure ti sto aspettando aspetto e non passa nemmeno l'autobus bloccato nell'imbuto cittadino delle sei è buio ho freddo ma resisto voglio aspettare tutto quello che ancora deve rifare una bimba adagiata nel passeggino indossa una tuta fucsia antigelo e viaggia spinta dalla sua mamma la guardo mi guarda mi sorride anche senza conoscermi perché ha capito che il momento è adesso non occorre aspettare oltre